Sono stati attimi molto concitati quelli vissuti ieri mattina al negozio di telefonia Catelli di Viale Dante a Piacenza, dove un uomo si è intrufolato nel retro del locale mentre i titolari erano intenti a servire alcuni clienti. Sorpreso dal personale, il malintenzionato è prontamente riuscito a fuggire. Inseguito dal figlio del proprietario del negozio, lo sconosciuto è arrivato di corsa fino a via Corneliana, dove è stato bloccato. L'uomo però è riuscito a divincolarsi e a scappare. Al suo inseguimento si è aggiunto anche un passante, che lo ha placcato atterrandolo. Il fuggiasco però non si è dato per vinto. Prima ha finto di arrendersi e raccolte le ultime forze, è salito sulla sua auto, ha bloccato le portiere ed è ripartito, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini sono in corso.